Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belli brutte e bentornati in questo video sul canale Oggi siamo qui ritornati per recensire un programma TenoShare4UK Che permette di sbloccare lo schermo dell'iPhone in caso non ricordiate qual è il passcode, ovvero la password Permette di sbloccare l'iPhone da un eventuale ID Apple di cui non conoscete il codice Permette di correggere l'iPhone o un iPad Oppure di sbloccare l'iPhone quando è rimasto bloccato nel logo di accensione Quindi permette di fare queste cose e adesso andiamo a vedere anche come Per prima cosa vi invito di scaricare il programma dal link in descrizione cliccando su download gratis L'azienda TenoShare mette a disposizione un giveaway di una licenza gratuita per utilizzare il programma nella sua completezza in maniera appunto gratuita Il link per partecipare al giveaway lo trovate in descrizione Ho anche il 30% di sconto grazie al coupon code che mi è stato fornito che troverete in descrizione E quindi se volete acquistare il programma utilizzate questo 30% di sconto E adesso andiamo a scaricare il programma e andiamo praticamente a effettuare l'installazione e ad aprirlo Ok ragazzi questo è praticamente il programma con tre funzionalità principali Ovvero bypass, ovvero ignora la gestione dei dispositivi mobili su dispositivi iOS Per ora questo non ci serve Poi abbiamo sblocca il passcode dello schermo Questo ovviamente è una procedura molto facile e inutile che vado praticamente a farvela vedere Perché è molto semplice da fare Basta cliccare qui, andare a cliccare su avvio Vi farà scaricare un firmware, ve lo farà installare e praticamente ripristinerà il vostro iPhone La procedura che ci interessa è invece sblocca l'ID Apple Quest'ultimo è molto utile come metodo per esempio quando non ricordiate il vostro codice dell'ID Apple Oppure quando acquistate un nuovo iPhone e quest'ultimo è bloccato oppure è stato utilizzato da un utente in precedenza Quindi andiamo a cliccare su sblocca l'ID Apple In questo caso dovremo collegare tramite USB il nostro iPhone al computer o al Mac Indipendentemente da che PC utilizzate Cosa da fare è cliccare su avvia Appena noi cliccheremo su avvia inizierà una sorta di caricamento Quindi andremo avanti per due minuti in questo caricamento Per poi ovviamente andare a ripristinare l'iPhone Quindi dopo questo caricamento l'iPhone si riavvierà Voi dovrete ovviamente seguire tutte le informazioni e tutte le richieste e le istruzioni che vi darà nello schermo come state vedendo in questo momento E alla fine appena terminata la procedura l'iPhone verrà riavviato Appena terminata la procedura dovrete andare a ricliccare su sblocca l'ID Apple E andare praticamente sulle impostazioni del vostro iPhone Su generali Scorrendo verso il basso andate a cliccare su ripristina o reset E cliccate reset all settings Dopo aver cliccato reset all settings L'iPhone verrà praticamente riavviato nuovamente E quindi in quel momento avrete un iPhone come nuovo e avrete anche la possibilità di inserire il vostro ID Apple O di crearne praticamente uno da zero In sé il programma è questo qua È possibile ovviamente cambiare lingua e scegliere tra tedesco, italiano, inglese Ovviamente io l'ho lasciato in italiano perché il video lo faccio in italiano mi sembra normale Il programma è davvero davvero interessante anche perché per la maggior parte del suo utilizzo è gratuito Serve soltanto la versione a pagamento per delle funzionalità esclusive Ma per sbloccare l'ID Apple tranquilli che potete farlo anche in maniera totalmente gratuita Quindi ragazzi vi invito a scaricarlo soprattutto in questo momento perché può essere che più in avanti lo metteranno a pagamento In descrizione trovate il link per il download Anche il coupon code nel caso voleste acquistare la versione praticamente completa E anche il link per partecipare al giveaway nel caso in cui avrete la possibilità di vincere una licenza gratuita per l'utilizzo del software Quindi ragazzi permette di fare tantissime cose Io vi invito a scaricarlo, vi invito anche di mettere like a questo video Di commentare nel caso in cui non riusciate nella procedura Io cercherò di rispondere ai vostri commenti nella maniera e in modo più veloce possibile In modo che sia abbastanza esaustivo la mia risposta Direi quindi che per questo video possa essere tutto Mettete like, commentate e iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi